Un nuovo letto all'avanguardia, recolabile in altezza per salvaguardare l'incolumità dei pazienti con Alzheimer alla casa di riposo Fossombroni, una donazione allo storico istituto cittadino da parte del Rotary Club di Arezzo. Va a migliorare in concreto la qualità della vita delle persone, perché oltre per la prevenzione antidegubino grazie a letti che sono nella rete, oltre a Materasso, che deve essere posizionato, ha questa caratteristica per le persone con decadimento cognitivo e o malattie di Alzheimer che possono essere, può arrivare all'altezza a terra, quindi a 20 cm dal terreno, quindi senza sbarri. Il service del Rotary Club Arezzo aveva trovato il proprio cuore nell'organizzazione dello spettacolo La Commedia Divina messo in scena nel mese di aprile nella chiesa di Santa Maria alla Pieve. Quando si dona siamo felici, ma quando si dona qualcosa di utile siamo veramente soddisfatti. Aver pensato di donare un letto antidecupito, un letto che ha tutta una serie di meccanismi che possono agevolare una persona che ha necessità di rimanere a lungo periodo distesa e può contribuire quello stesso letto con quegli accorgimenti che ha a migliorare la qualità di vita di questa stessa persona, è sicuramente una grande soddisfazione. Grazie a quanto raccolto è stato donato il nuovo letto all'Istituto Cittadino. La nostra mission qui, sia di chi ci lavora, che di chi fa volontariato, che di chi come noi cerca di dare il proprio contributo, è proprio quella di migliorare la vita degli ospiti. Grazie a Rotary questo oggi è ancora più possibile.